Insegnante di scuola primaria. Sono passata di ruolo due anni fa. Spero veramente che il Signore possa dare la possibilità a tutti di lavorare, soprattutto chi è mio coetaneo e ancora a casa senza un lavoro. Giubileo dei lavoratori della Diocesi di Milano nella Basilica di Sant'Ambrogio, il Cardinal Scola insieme a una delegazione del mondo del lavoro varca la Porta Santa nella chiesa intitolata Al Patrono. Un'occasione per pregare e riflettere sui temi della giustizia e della misericordia in un mondo del lavoro che spesso, invece di favorire i legami sociali, crea tensioni, storie di lavoratori che si incrociano tra preoccupazioni e speranze. Io sono un impiegato e in questo momento ho un ruolo di responsabilità nell'azienda in cui lavoro. La preoccupazione è quella che le aziende al giorno d'oggi possono mantenere un ruolo sociale in Italia che possa garantire anche l'occupazione. La speranza è questa. Le speranze è che davvero questa crisi ci insegna ad essere più aperti, meno egoisti, più solidali. Il lavoro è una dimensione personale e sociale insostituibile, ricorda il Cardinal Scola, che elenca le ferite aperte, la disoccupazione, soprattutto per i giovani, gli over 40, i troppi morti sul lavoro. Tutti sono chiamati a fare la loro parte per promuovere la dignità del lavoro. Infine un appello per collaborare alla terza fase del fondo di Ocesano Famiglia Lavoro, che sarà dedicata, spiega l'Arcivesco di Milano, alla ricerca di posti di lavoro per chi ne ha tanto bisogno.